Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Purtroppo non si può essere sempre in viaggio, anche se personalmente credo che mi ci abituerei piuttosto facilmente. Dopo avervi parlato nel mio ultimo video dell'esperienza che ho potuto vivere a Monte Carlo, tra l'altro se ancora non l'avete visto vi lascio qui sopra nelle schede il link per andarvelo a recuperare subito, ora torno a fare qualcosa di più ordinario. Grand Seiko è un marchio che amo particolarmente e credo di avervelo già dimostrato sia con i contenuti che ho realizzato man mano qui sul canale sia anche con le scelte che ho fatto a livello personale per quanto riguarda la mia collezione. Personalmente però continuo a rimanere più legato alla linea Heritage perché secondo me rappresenta il connubio perfetto tra tradizione e modernità. Inoltre i modelli che rientrano nella linea Heritage di solito sono anche estremamente versatili, tanto da essere perfetti praticamente in ogni situazione, dalla grigliata con gli amici tanto per intenderci fino a un evento con un abito elegante e magari anche la cravatta per chi la utilizza. La linea Elegance, come è facilmente intuibile dal nome, raggruppa invece le referenze più improntate all'eleganza e questo lo si capisce chiaramente dalle dimensioni un po' più contenute in generale ma anche dalla netta predominanza di cinturini in pelle rispetto a quelli in metallo, acciaio oppure titanio. Il lancio di un nuovo quadrante per quello che è probabilmente uno dei modelli più classici e tradizionali all'interno del catalogo di Grand Seiko mi ha spinto a provarlo finalmente, potere probabilmente dell'azzurro. E allora vediamo un po' insieme com'è questo Grand Seiko SBG W283. Per questo video dobbiamo ringraziare gli amici della gioielleria Boglietti di Biella per avermi gentilmente prestato l'esemplare oggetto di questa recensione. Sono concessionari ufficiali di tutti i marchi che vedete nella grafica qui sotto e sono abituati ad effettuare spedizioni in tutta Italia. Come al solito sotto in descrizione trovate il link al loro sito web. Il corredo è quello classico per Grand Seiko con controscatola e scatola blu. All'interno oltre al manuale e alle informazioni per la garanzia c'è anche un certificato che attesta tutti i vari test e i controlli di qualità effettuati dai tecnici. Come di consueto quando si parla di Grand Seiko la nostra attenzione viene catturata immediatamente dal quadrante, persino in questo caso che abbiamo a che fare con un modello più classico e meno appariscente. Questa cassa è già stata utilizzata per altre referenze come queste due uscite lo scorso anno. Nel 2022, oltre a questa variante in azzurro, è stato proposto anche il quadrante verde scuro. Molto bello almeno per chi ama quel colore e quindi non per me. L'azzurro è una tonalità che, a volte più intensa e a volte più tenue, sta diventando ricorrente nei quadranti di Grand Seiko, sia su modelli permanenti a catalogo che per alcune edizioni speciali o limitate. Il quadrante ha una finitura superficiale irregolare che lo impreziosisce e lo rende interessante, senza però farlo diventare troppo appariscente in rapporto alla cassa elegante. Qui la pulizia e la semplicità sono tutto e infatti non troviamo neppure la data. Gli indici sono applicati e sfaccettati, come da tradizione per Grand Seiko, e c'è una simmetria perfetta perché quello a ore 12 non è di dimensioni differenti rispetto agli altri a ore 3, 6 e 9. Le sfere Dauphin seguono la tradizione e come tali hanno una lucidatura di altissimo livello. Anche qui però, per perseguire l'eleganza semplice e minimalista di questo modello, non hanno porzioni spazzolate. Quella dei secondi è lievemente curvata verso il basso. Se già su gran parte dei modelli della lina Heritage non è presente alcun tipo di luminescenza al buio, qui sarebbe stato certamente sorprendente e anche un pochino fuori luogo constatare il contrario. Sarebbe un po' come correre la maratona con l'infradito. Il vetro è un bellissimo zaffero boxed con bordo arrotondato che ricrea l'effetto del plexiglass. Sul lato interno è presente il trattamento antiriflesso che, unito al colore chiaro del quadrante, è piuttosto efficace nel garantire un'ottima leggibilità. La cassa ha linee semplici ma non banali. Sicuramente qui non siamo di fronte ai design più caratteristici per Gran Seiko, ispirati al 44GS e al 62GS, ma lo spirito di questo orologio è un altro e viene ribadito anche nelle forme. Belle le anse con sfaccettatura sul lato esterno e la lucidatura Zaratsu, senza alcun tipo di distorsione, si nota eccome dei suoi riflessi unici. Dalla vista laterale è possibile apprezzare lo spessore contenuto e la curvatura delle anse verso il basso. La Corona Ore 3 è soltanto a pressione, altra caratteristica ovvia sia per la tipologia dell'orologio che per il movimento al suo interno. Ha il logo di Gran Seiko in rilievo, è rifinita in modo impeccabile e ha anche le giuste proporzioni per essere facilmente azionabile senza però dar fastidio esteticamente o al dorso della mano. Il fondello è tenuto in posizione da 6 viti e l'impermeabilità è appena sufficiente per lavarsi le mani senza rischiare troppo, forse. Fortunatamente grazie alla finestra centrale in vetro possiamo ammirare il movimento all'interno. Questo rispecchia alla perfezione la semplicità e il forte legame con la tradizione di questo modello. Il 9S64 è un calibro meccanico puro a carica manuale. Rispetto ai movimenti spring drive e high beat è molto meno tecnologico se vogliamo, ma garantisce pur sempre una riserva di carica di ben 72 ore, ha una frequenza di 28.800 alternanze all'ora e ha il fermo macchina. La finitura pur essendo industriale è di livello veramente molto alto e nello stile tipico di Gran Seiko. Apprezzo moltissimo la scelta di aver messo il logo visibile soltanto in trasparenza, un po' come sullo Snowflake e su tanti altri modelli, evitando quindi quegli scempi solitamente riservati alle edizioni speciali o limitate. Non ho potuto ovviamente utilizzare questo esemplare in prestito, ma in condizioni statiche a casa ha fatto registrare uno scarto medio di più 2 secondi al giorno. Gran Seiko dichiara un range da meno 3 a più 5, sempre in condizioni statiche. Il cinturino di serie è in pelle di coccodrillo di alta qualità ed è abbastanza morbido fin dall'inizio. Chiaramente avrà poi bisogno di prendere un po' la forma del polso. Come chiusura adotta una normalissima fibbia d'ardiglione con marchio di Gran Seiko in rilievo. Questa è una soluzione che personalmente preferisco, perché pur essendo più ricercata, la Deployant sui polsi piccoli rischia di ritrovarsi in posizioni piuttosto scomode e poco ergonomiche. SBGV 283 è un orologio magnifico una volta indossato. Ha proporzioni perfette, non è esageratamente appariscente ed è molto elegante. La cassa è comoda perché abbraccia bene il polso e il suo spessore ridotto è perfetto per scivolare sotto il polsino della camicia. Il diametro è di 37 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 44 mm, lo spessore, compresa la sporgenza del vetro, è di 12 mm e il peso è di 56 grammi. Ribadisco che per i miei gusti, le mie abitudini e il mio stile di vita resto per il momento più affezionato alla linea Heritage di Grand Seiko. È quella che sento più adatta a me, forse anche fin troppo perché vorrei prendere tutte le referenze. Però per chi cerca un orologio elegante, questo modello è da tenere in seria considerazione. A patto però di scegliere con la propria testa e soprattutto con il proprio cuore, consapevoli di portarsi a casa un orologio da veri intenditori, liberi dei preconcetti e soprattutto non curanti dei giudizi altrui. Il prezzo di listino è di 4.800€ e tenendo conto delle caratteristiche e anche dei possibili sconti è in linea con quanto si trova attualmente sul mercato. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video. Grazie.